Senta Sara, dallo sport alla politica è un bel balzo, come mai hai fatto queste decisioni candidarsi per la lista Fontana Presidente? Ma diciamo che quando è arrivata la chiamata sono stata un po' dubbante perché il mondo dello sport è molto diverso da quello della politica. Il mondo della politica è fatto di molte parole, quello dello sport di molti fatti, mi piacerebbe trasportare la mia esperienza all'interno del mondo della politica. Io non sono una politica, sono ancora una persona di sport e quello che mi interessa in questo momento è raggiungere un obiettivo di squadra e un obiettivo individuale. Quindi lei ragionerà principalmente in termini sportivi riflettendone poi in politica, quello spirito classico dello sport magari di squadra è anche singolo, giusto? Sì esatto, poi portando la mia esperienza dello sport all'interno del mondo della politica, sempre e comunque pensando più alla squadra che all'interno. Ecco invece parliamo di sport di canottaggio, come siamo messi? Ma in provincia di Varese, a Varese sono stati organizzati moltissimi eventi internazionali che sono un grande vortice per tutta l'economia e per insomma tutto l'indotto all'interno del territorio. Io penso che questo sia un modello da portare avanti.